Oggi è la giornata mondiale della bicicletta, istituita dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2018. Secondo legambiente, negli ultimi anni c'è stato un aumento degli spostamenti in bici e una maggiore attenzione alla mobilità sostenibile, tanto che con oltre 3,2 milioni di pezzi fabbricati nel 2021, l'Italia è il primo produttore europeo di biciclette. Durante il lockdown, a città e comuni italiane hanno costruito oltre 193 chilometri di nuove piste ciclabili. La città con il maggior numero di chilometri ogni 1000 abitanti è Ferrara, seguita da Reggio Emilia e Modena. Grazie